Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV Canale 12 che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it notizie che trovate tra l'altro aggiornate H24 anche sulla nostra pagina facebook ora inquadrata etvmarche.it siamo anche in live sulla nostra app scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet apriamo questa edizione con il covid perché il covid rialza la testa e allora la sanità risponde, riattiviamo gli open day in tutta la regione come in tutta Italia anche nelle Marche si sta registrando un aumento dei casi di contagio da SARS-CoV-2 e di ricoveri ospedalieri per covid-19 attualmente sono 280 i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali marchigiani su comunque 973 posti letto disponibili si tratta di 37 pazienti ricoverati in più rispetto alla scorsa settimana i pazienti in terapia intensiva sono 5 su un totale di 206 posti letto e 4 la scorsa settimana così si legge in una nota della regione Marche rispondiamo ad una richiesta di collaborazione del ministero dice Saltamartini riattivando gli open day in tutta la regione giornate in cui cioè è possibile accedere alla somministrazione del vaccino senza la prenotazione trovate sul nostro sito etvmarche.it elencate tutte le date, gli orari e i luoghi dove si potrà fare la vaccinazione anti covid-19 il meteo ora, altra notizia che trovate sul nostro sito etvmarche.it perché sarà una giornata quella di oggi caratterizzata da vento forte mentre tra sabato e domenica saranno possibili nevicate sull'entroterra sarà un altro weekend dunque di allerta gialla nelle Marche, vento forte, pericolo mareggiate sulla costa per l'intera giornata di oggi 15 dicembre nella serata nottata di sabato limite delle nevicate attorno a 800-900 metri sul livello del mare la cronaca ora con la lettera minatoria vedete l'immagine con proiettile spedita al presidente di Interporto Marche sei morto, la scorta non ti salverà. La lettera è stata recapitata alla sede centrale del Corriere Adriatico di Ancona il destinatario è Massimo Stronati, presidente di Interporto SPA, già in passato oggetto di minacce tanto che ha la scorta da diverse settimane. Da qualche mese però la pressione su di lui sembrava essersi allentata ma ora le intimidazioni sono ricominciate. Trovate sul nostro sito atvmarket.it il testo della missiva parliamo ora dello sciopero, oggi c'è lo sciopero nel trasporto ma lunedì attenzione sciopero nel settore della sanità quali sono le motivazioni, il servizio? Il grido di allarme è veramente importante, abbiamo circa 160 precari tra medici e infermieri che se non venissero rinnovati il 31 gennaio che è il giorno della loro scadenza l'ospedale di Torrette sarà costretto a fare ulteriori tagli. Assalterebbero veramente servizi essenziali che di alta qualità, di alta specializzazione, di eccellenza come si dice che vengono eseguiti solo in questo ospedale. La situazione all'ospedale di Torrette, il migliore d'Italia per il secondo anno consecutivo eppure alle prese con criticità di carenza di personale, precariato, taglia ai posti letto, liste d'attesa. Anche le marche parteciperanno lunedì 18 dicembre allo sciopero nazionale dei dirigenti medici, veterinari e sanitari che si svolgerà a Roma, indetto dalle sigle AROI EMAC, FASID, FVM e CISL Medici. Alla base della protesta la difesa della sanità pubblica, il sottofinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e del prossimo contratto collettivo, la fuga dei professionisti dagli ospedali. Si continua a perseguire il taglio dei fondi per il personale e quindi praticamente questa situazione porta alla fuga di molti dirigenti medici dal sistema pubblico. Un esempio per tutti, la fuga dagli pronti soccorsi. Speravamo che questo governo potesse incrementare i fondi per il personale dipendente, che trovasse fondi per garantire sistemi essenziali LEA sul territorio, ma purtroppo questo non è avvenuto. Abbiamo un contratto con dei fondi veramente a ribasso, abbiamo un sistema di penalizzazioni, se pensiamo al sistema pensionistico che con la legge di bilancio 2024 è stato messo in essere. Osserviamo uno spostamento abbastanza evidente sul ruolo del privato, mentre la sanità pubblica ha un compito assolutamente fondamentale, perché è l'unica che può garantire veramente l'universalità dei diritti, soprattutto delle fasce più deboli che hanno bisogno di prestazioni di lungo periodo, di lungo termine. Il giorno 18 saranno garantite tutti i sistemi, tutti i servizi essenziali, urgenze e emergenze, e in nessun modo si metterà in pericolo la vita dei pazienti, i nostri datori di lavoro, i nostri pazienti, per nessun motivo. Scade l'anno, tra pochi giorni c'è una questione super bonus, con tante strutture, tanti cantieri e tante famiglie con il fiato sospeso. La Confartigianato chiede una proroga. Vediamo. Da una parte la proroga per far sì che i lavori vengano conclusi per i condomini, dall'altra affrontare e risolvere la questione dell'accessione dei crediti, che sono in pancia alle aziende e che quindi creano tantissimi rischi anche di falimenti delle imprese. Nelle Marche, alla fine di ottobre, gli edifici coinvolti nei lavori di efficientamento energetico, grazie al super bonus 110, erano 11.500 per 2 miliardi e mezzo di euro di investimenti. A beneficiare delle agevolazioni sono 3.000 condomini, ma senza una proroga del beneficio, un cantiere su quattro non riuscirà a concludere i lavori entro il 31 dicembre. L'allarme di Confartigianato Marche, che chiede al governo altri tre mesi di tempo nel 2024. Ci sono aperti numerose migliaia di cantieri anche nelle Marche. Cantieri che riguardano in modo particolare ormai i condomini, soprattutto i condomini perché le case singole hanno avuto più tempo per essere trattate, affrontate. Noi abbiamo, come dicevo prima, migliaia di cantieri aperti, quindi con difficoltà per le imprese che non riescono a completare i lavori, tenendo conto che in un momento quasi di conclusione di questa agevolazione tutte le imprese e i cittadini tendono a chiudere i cantieri, quindi ricercando le materie prime che non sempre si trovano e questo significa anche avere i tempi necessari per fare lavori a regola d'arte. È stato un fenomeno molto importante che ha portato sviluppo, ha portato occupazione, ha generato anche ricavi per lo Stato. È vero che c'è stato un problema di cessione dei crediti, un problema tuttora esistente con le banche, con il sistema creditizio, insomma che noi stiamo attenzionando anche questo. Il super bonus, in particolare nel cratere del sisma 2016, ha avuto il suo impatto positivo. La riduzione del beneficio al 70% a partire dal 1 gennaio provocherebbe devastanti effetti economici e sociali, aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati. Pensiamo alla ricostruzione, quanto le nostre imprese tutte, marchigiane ma anche provenienti da altre regioni, sono impegnate nelle maxi cantiere della ricostruzione. Anche questo sarà un lavoro importante che durerà nel tempo, però, torno a dire, una volta che si spegnerà i fari del bonus, è chiaro che l'agevolazione rimane al 70%, poi nel 2025 al 65%, quindi c'è sempre una discreta agevolazione, ma cominciamo a registrare i primi segnali di riduzione del lavoro nel settore dell'edilizia. Non parlo di crisi, ma comunque di attenuazione. Chiudiamo con il messaggio di forza e di speranza di Achille Polonara dopo il tumore, il ritorno in campo. È stato un momento naturalmente difficile per me, perché io non mi ero mai neanche operato a niente, per fortuna, in 32 anni, quindi è stata una bella botta, però è chiaro che non venivo da un buon momento cestistico pre-intervento, e quindi lo prendo come un reset, anche perché comunque sto in una squadra nuova, sto indossando dei colori nuovi, quindi voglio che sia un rinizio della mia seconda parte di carriera. Con questo bel messaggio di vita, chiudiamo questa edizione marchigiana di EtG, vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa. State con noi. State con noi.